che vi parla ragazzi siamo tornati con un nuovo video signori miei in Lanzonalo oggi come già anticipato appunto ieri vi porto la build certificata della superi da lungo raggio ebbene per chi si fosse perso il video di ieri vi consiglio vivamente di andarlo a recuperare perché ieri ve l'ho dimostrato sulla carta oggi ve l'ho dimostrato sul campo perché sennò che 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 non sarebbe stato giusto nei vostri confronti e oggi vi dimostro sul campo quanto in realtà è veramente meta la superi da lungo raggio raga non ci credevo cioè in realtà ci credevo perché ho visto i grafici che lo dimostrano poi avendola provata ho capito il perché per iniziare lasciate il follo al nazionale raga perché vi vedo che porchi molti di voi guardano i video ma non sono iscritti a voi non vi costa nulla lasciate l'iscrizione il nazionale è contento e voi oggi se lasciate il follo avete fatto un'opera di bene e Gesù Cristo nostro Signore vi ricompenserà con un posto in prima fila in paradiso in più link in descrizione raga l'abbonamento ieri è uscita la puntata su un trick da utilizzare quando siete in cover per prendere di soppiatto i vostri enemies in modo tale da vincere al 100% i gunfight frontali i segreti del nazionale ovvero quelli dei pro players li trovate con il link sotto in descrizione con l'abbonamento smadonno family più tutti gli altri video su come aumentare le aim assist e tutti gli allenamenti da fare per migliorare su warzone link sotto in descrizione eccola qua raga si riesce a fare una build per sparare bene il lungo raggio difatti come potete vedere controllabilissima con la build certificata dal national de paris e adesso andiamo subito a vedere la build primo accessorio calcio monolith 4.6 non vi dico neanche perché serve è un calcio con l'impugnatura nello stesso accessorio quindi fondamentale ottica jack senza vetro canna pesante home guard che busta la bullet velocity e la portata dan spengi fiamma con un pesatore zen 35 carica torones da 40 col poloni raga qua c'è poche chiacchierone provatela dovete provarla assolutamente e ovviamente dopo che l'avete provata fatemi sapere qua sotto nei commenti raga perché rimarrete esterre fatti noi duduloni miei ci vediamo domani con il prossimo video bella regaz e io col gioco non vado d'accordo da vabbè raga sto gioco è una merda giuro vedi che devo bestemmiare zio pera ma che cazzo serve sparare dai due pugni a caso sono lì a sparare zio pera dai due pugni e via è finito posso stare lì mica lì a diventare matto ah ah lo dico io poi trovassi una mitraglietta decente cazzo frate non t'ho visto mai non l'ho visto raga giuro su dio chi è quello che parla spero che è quello che ho appena killato che mi ha scassato tre quarti di ciola proprio la tua lotta è finita si vabbè io sto uno di quelle smirate raga giuro uno di quelle smirate zio pera no video di domani video di domani se ho il bot perché ma no raga distrutto e lui mi ha distrutto ovviamente no 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 perché deve fare quelle cose che non gli dico di fare è sceso giù questo ma sto che cazzo ha parcheggiato quattro cose porco zio allora non è asceso non era asceso questo qua non era asceso glielo dovevo e dicevano che ero negato come c'è come c'è come c'è ho sentito uno vicinissimo ho sentito uno vicinissimo raga ho sentito uno vicinissimo oh oh cazzo 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 superi da long superi da long che cazzo che cazzo che cazzo